Terrorismo, la nuova sfida dell'Europa contro il radicalismo nelle carceri e sul web. Nasce il cloud scientifico per scienziati e ricercatori europei. Il ruolo e i compiti della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Poca Europa nei dibattiti delle primarie negli Stati Uniti di Hillary Clinton e Donald Trump. L'Europa premia i migliori ricercatori, tra di loro anche tanti italiani. Un fenomeno difficile da scovare perché nascosto nelle carceri e sul web è il radicalismo di odio e violenza, l'indottrinamento fondamentalista dei detenuti, un terreno molto fertile per il reclutamento di potenziali terroristi. La Commissione europea sta lavorando insieme agli Stati membri, che però di fronte a questo tema hanno approcci talvolta molto differenti. In alcuni casi si punta all'isolamento del detenuto, in altri invece si spinge al recupero sociale dell'individuo. A complicare le cose c'è poi il web, mezzo potentissimo di propaganda di estremismo e in questo caso Bruxelles è consapevole di dover coinvolgere in questa battaglia i colossi della rete. Ecco, con l'allarme del terrorismo anche le carceri europee accolgono all'interno delle mura dei terroristi. È preoccupata di una radicalizzazione del terrorismo nelle nostre carceri e se sì lei pensa che saremmo pronti a fronteggiare quest'ulteriore emergenza? Sì, noi abbiamo dei dati secondo i quali in alcuni Stati membri questo è veramente un problema urgente. La Francia ad esempio dove ci viene detto che il 15% degli estremisti lo sono diventati in carcere oppure online adesso. Quindi dobbiamo affrontare questi due fronti. Ne parleremo col Ministro Orlando e stiamo cercando di trovare modi di creare anche dei gruppi di lavoro perché gli Stati membri possano scambiarsi le loro esperienze e le loro buone pratiche. A proposito dell'Italia, c'è però a parte la lunghezza dei procedimenti anche un problema per quanto riguarda la recidiva, cioè chi passa un periodo nel carcere quando esce ripete lo stesso reato, comunque torna a delinquere. È un problema? Cosa significa? C'è un problema nella gestione delle persone che passano un periodo in carcere? Io non penso tanto alla gestione delle persone nelle prigioni quanto perché in fondo una persona non vuole mai tornare in carcere ma piuttosto al periodo immediatamente dopo il rilascio e penso appunto alle misure tipo la libertà vigilata. Non solo in Italia ma in tutti gli Stati membri si potrebbe fare un uso maggiore dei fondi europei per l'integrazione sociale perché io penso che molte di queste persone vogliono vivere una vita normale, tornare in famiglia, tornare a lavorare e credo che sia proprio qui che manca qualcosa nei paesi soprattutto dove c'è un alto tasso di recidiva. L'Europa è il maggior produttore di dati scientifici al mondo ma spesso la carenza di mezzi e infrastrutture non permettono di sfruttare al massimo il potenziale di queste informazioni. La Commissione ha quindi deciso di creare un nuovo cloud europeo per la scienza che fornirà a più di un milione e mezzo di ricercatori e 70 milioni di professionisti un ambiente virtuale per archiviare e condividere dati preziosi. Un mezzo nuovo che permetterà all'Unione Europea di competere a livello mondiale nel campo del calcolo ad alte prestazioni. Bene abbiamo visto i particolari di questa nuova iniziativa che riguarda il cloud computing, stiamo parlando di dati scientifici. Ci colleghiamo con Bruxelles, con Lucilla Sioli che è capo unità della DigiConnect della Commissione Europea e le vorremmo chiedere quanto è difficile mettere in pratica questo tipo di progetto? È abbastanza complicato perché bisogna agire su tanti dati diversi. Innanzitutto noi intendiamo fare in modo che tutti i dati scientifici che vengono prodotti tramite il programma di ricerca della Commissione Europea Horizon 2020 siano pubblicati in maniera aperta in modo da essere riutilizzabili. In secondo luogo cerchiamo di creare un cloud europeo per la scienza in modo che i ricercatori europei possano collaborare attraverso l'integrazione delle piattaforme elettroniche e infine entro il 2020 vorremmo che ci sia una diffusione su vasta scala di questa infrastruttura europea per il calcolo ad alte prestazioni, per l'archivazione dei dati e per le reti. Anche attraverso l'acquisto di prototipi di supercomputer di prossima generazione. Ecco, questi dati saranno ovviamente a disposizione della comunità scientifica, ma in futuro pensate che altre persone, altri utenti potranno avere accesso a questo cloud? Sì, sicuramente. L'idea è che l'utilizzo possa essere steso ad esempio anche al settore pubblico, ad esempio attraverso dei progetti di e-government. Il nostro obiettivo è che i dati pubblici siano accessibili a scienziati, all'amministrazione pubblica e alle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese dovrebbero beneficiarne. Forse non tutti sanno che la Commissione europea ha degli uffici di rappresentanza in tutti gli stati membri. In Italia questa rappresentanza ha sede a Roma e a Milano e svolge un duplice ruolo, comunicare l'Europa in Italia e viceversa l'Italia in Europa. In base a questo principio molte sono le attività. Prima di tutto spiegare ai cittadini italiani come le politiche comunitarie incidono nella vita di tutti i giorni. Li informa sui loro diritti e su come farli valere. Ma non solo, è anche il tramite tra Unione europea e mondo economico e sociale italiano, oltre ad avere la funzione di aggiornare la stampa e i media sugli sviluppi delle politiche europee. Abbiamo il piacere di avere nel nostro studio Europa la nuova direttrice della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi. Beatrice, benvenuta, siamo molto lieti di averti qua. Ma chi sei? Ci puoi spiegare? Da dove vieni? Grazie Thierry, anche sono molto felice di essere per la prima volta qui a Studio Europa. Da dove vengo? Vengo non da molto lontano, sono fiorentina di origine, europeista convinta e da 20 anni però che vivo all'estero, a Bruxelles, a Lussemburgo e a Washington. Ho fatto varie esperienze e funzionario della Commissione europea dal 2000. Sono molto contenta di questa nuova sfida, di tornare in Italia e di avere la possibilità di portare il mio entusiasmo europeo più vicino ai cittadini italiani. E di fatto ce n'è bisogno perché effettivamente in Italia la quantità di gente che crede nell'Europa o che si sente europeo è molto più bassa che in molti altri paesi, al contrario di 10 o 20 anni fa. In ogni modo tu sei stata nominata dal Presidente della Commissione, da Jean-Claude Juncker. Perché? Perché ci sono anche stati alcune tensioni tra l'Italia e la Commissione europea. Ci sono tensioni tra la visione, diciamo, di Renzi, di Hollande contro quella di Schaubel o Merkel, eccetera. E quindi queste tensioni devono essere risolte in un certo modo e tu fai un po' il tramite. Allora, come si vede l'Italia da Bruxelles? Tu ne vieni, arrivi da Bruxelles. Qual è la visione dell'Italia da Bruxelles? E che cosa dopo pensi di fare per migliorare tutto ciò e fare funzionare un po' questa Europa? Certo. Indubbiamente, come dicevi, sono momenti difficili in generale per l'opinione pubblica europea. Stiamo affrontando crisi grosse, non solo la crisi economica, ma anche, nel caso di questo paese, la migrazione di cui abbiamo discusso varie volte. E ricorderai che queste scaramouche che ci sono state inizio anno si sono poi appacificate in un momento in cui Juncker disse a Renzi, per il resto la mia sarebbe una lettera d'amore per l'Italia. E di fatto ne ha scritto una recentemente d'amore per l'Italia. A me piace pensare anche di incarnare un po' questa lettera d'amore del Presidente per l'Italia, di essere un volto che aiuta a creare ponti, che aiuterà a creare un dialogo su basi molto solide e che cercherà di guardare all'Europa delle opportunità, all'Europa che può rappresentare un segno di speranza e di progettualità per il futuro, anche per le nuove generazioni. Ma il ruolo della rappresentanza non è solo di fare il tramite tra il governo italiano e le istituzioni europee, è anche di fare il tramite tra l'Europa e i cittadini italiani. E' anche questo che tu vuoi sviluppare? Assolutamente sì. Quindi da un lato vorrò lavorare più con la mia esperienza diplomatica di Washington a far sì che la rappresentanza diventi una vera casa Europa, che tutti i cittadini d'Italia possono vedere questa rappresentanza come la maison dell'Europa. e al tempo stesso trovare dei canali per parlare con i cittadini in modo semplice, diretto, convincente e che possa aiutare i cittadini a capire perché stiamo in Europa e perché ci conviene rimanere in Europa. Dopo New York, Donald Trump e Hillary Clinton, sempre più vicini alla nomination, cambiano strategia nella comunicazione. Trump adotta toni più presidenziali anche per rassicurare l'establishment repubblicano e nei suoi discorsi punta l'attenzione sui temi dell'economia e del lavoro. Trump ha come obiettivo raggiungere la soglia dei 1.237 delegati repubblicani, soglia che farebbe scattare automaticamente la sua nomination ed escluderebbe manovre di partito per escluderlo dalla corsa alla Casa Bianca. La Clinton invece si rivolge direttamente ai sostenitori di Sanders. Nei suoi comizi dice loro che sono più le cose che uniscono di quelle che ci dividono e quindi è arrivato il momento di riunificare il partito e puntare insieme alla Casa Bianca senza continuare a danneggiarsi. E torna a chiedere a Sanders di ritirarsi prima di spaccare ulteriormente il partito mettendolo a rischio per le elezioni di novembre. E allora, questo è quello che sta succedendo alle primarie negli Stati Uniti. Do il benvenuto a Giampiero Gramaglia, responsabile della comunicazione dell'OIAI, al quale chiedo, ma di Europa questi candidati parlano mai durante queste convention, questi voti? Di Europa parlano poco. Parlano poco sia i repubblicani che i democratici. Parlano anche poco del trattato dell'accordo di libero scambio transatlantico, il TTIP. Parlano molto di quello con la Cina, soprattutto ne parla Donald Trump, il candidato repubblicano che non lo vede con favore. Ma su un punto, quando ne parlano di Europa, Trump e anche i democratici Hillary Clinton e Bernie Sanders sono d'accordo. Ne parlano dal punto di vista della sicurezza e pensano che gli alleati europei devono pagare di più per la propria sicurezza e per la sicurezza comune. Pensano in particolare alla lotta contro il terrorismo, ma anche al coinvolgimento nelle grandi crisi del Medio Oriente e con la Russia sul fronte dell'Ucraina. Sono 277 i ricercatori che hanno vinto le Advanced Grants, borse di studio assegnate dal Consiglio europeo della ricerca, per un valore totale di 647 milioni di euro. I fondi fanno parte di Horizon 2020, il programma per la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea, e finanziano, dice il commissario europeo per la ricerca Carlos Moedas, il lavoro di alcune fra le menti più brillanti nella ricerca innovativa, persone le cui scoperte possono dare il via a nuove industrie, nuovi mercati e contribuire al benessere del pianeta. I progetti finanziati investono molti settori, tra i quali la prossima generazione di computer quantistici e i nanomateriali. Dunque, a cosa serviranno concretamente? Che tipo di progetti andranno a finanziare? Allora, i progetti possono approfondire tutte le ente scientifiche, dalle discipline umanistiche alla fisica, all'ingegneria o alla medicina. Per esempio, si studiano i meccanismi per combattere l'Alzheimer, per esempio si studiano le politiche per combattere la povertà, oppure ancora si inventano mani artificiali, mosse con campi magnetici o si studia la cyber sicurezza dei nostri smartphone. Quindi si copre veramente tutto il sapere in tutte le discipline. Ecco, stiamo parlando di borse di studio per ricercatori di punta, di alto livello, però in realtà l'invito a tutti i ricercatori è quello di partecipare, perché le opportunità ci sono anche diverse da questo tipo di finanziamenti. Sì, nell'ambito del programma Orizzonte 2020 ci sono molte possibilità per i ricercatori italiani ed europei. Le borse dell'ERC, cioè del Consiglio Europeo delle Ricerche, sono una delle possibilità che si prefigono di dare opportunità ai talenti, all'eccellenza scientifica, anche quella giovane emergente, e quindi ai giovani che hanno iniziato a pubblicare, che stanno diventando degli ottimi ricercatori. Ma poi ci sono tante altre opportunità, ci sono le borse Marie Curie, ci sono i programmi di cooperazione anche con le imprese, i dottorati industriali. Quindi l'insieme del programma Horizon Orizzonte 2020 offre una serie di opportunità. Ricordiamo che ci sono quasi 70 miliardi di Euro nel periodo 2014-2020 a disposizione della ricerca europea. La rassegna stampa in collaborazione con Internazionale. Allora, ben arrivato Andrea Pipino. Salve a tutti. Per andare a vedere cosa troviamo nella sezione Europa del giornale. Si porti in Serbia. Un po' più a nord rimaniamo nell'ex Yugoslavia, perché il 24 aprile i serbi andranno a votare per il rinnovo del Parlamento. È un voto anticipato, anche questo, che è stato convocato a gennaio dal premier Aleksandar Vucic, del partito progressista serbo, che da due anni governa in coalizione con i socialisti. Secondo Politica, i sondaggi dicono che il partito di Vucic vincerà a mani basse e bisognerà solo sapere se riuscirà a superare il 50% dei voti. È prevista anche, secondo il giornale di Belgrado, un'avanzata dell'ultranazionalista partito radicale, il partito di Vojislav Sheseli, che è stato, come ricorderete, recentemente assolto dal Tribunale Penale per l'ex Yugoslavia dell'Aia dalle accuse di genocidio e crimini di guerra commesse negli anni 90. Per chiudere, Andrea, Ucraina? Russia e Ucraina, sempre Est, per parlare del possibile scambio di prigionieri che invista nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, appunto, tra Mosca e Chievi. Il 18 aprile, infatti, quattro giorni dopo l'entrata in carica del nuovo premier ucraino, Volodymyr Groysman, un tribunale di Kiev ha condannato a 14 anni di reclusione i cittadini russi Evgeny Rofyeyev e Aleksandr Aleksandrov, che erano due militari che erano stati arrestati nel 2015 nella regione di Lugansk, quella parte dell'Ucraina che è sotto il controllo dei separatisti, e condannati in tutta fretta per terrorismo. Ora, è molto probabile, scrive il sito russo Gazeta, un scambio di prigionieri con la pilota ucraina Nadia Savchenko, che era stata condannata nelle ultime settimane, come forse ricorderete, in Russia, a 22 anni di carcere. Il presidente russo Putin e il suo omologo ucraino Pietro Poroschenko si sono già sentiti al telefono e sembra che abbiano trovato un accordo di massimo. Nei prossimi giorni bisognerà solo stabilire i dettagli di questo scambio di prigionieri che, devo dire, tutti un pochino si aspettavano, perché sia la condanna della Savchenko sia la condanna di questi due militari russi erano state, come dire, decise dai vertici della politica proprio per arrivare probabilmente a una soluzione del genere. Ciao Luca, buongiorno a tutti. Allora, prima di dirvi due parole su quello che sarà il film della settimana, volevo così ricordare che ci sono stati i Davidi di Donatello e volevo ricordare che alcuni dei film di cui abbiamo parlato qui precedentemente sono stati premiati, tra i quali Il racconto dei racconti e lo chiamavano Gigerobo, che, tra l'altro, tornerà in sala con più di 200 copie, quindi un'opportunità per chi l'avesse perso. E poi, parliamo di acqua, perché? Perché il film di questa settimana è I ricordi del fiume di Gianluca e Massimiliano Deserio. Il film è stato presentato alla 72esima mostra del cinema di Venezia e racconta un documentario che racconta la storia di una delle più grandi baraccopoli d'Europa, il Platz. In questa baraccopoli vivevano oltre mille persone di diversa nazionalità e si trovava, appunto, sugli argini del fiume Stura a Torino. In questa baraccopoli è in atto uno sgombero e probabilmente questo documentario sarà l'ultima testimonianza su quella che è stata una città all'interno della città a Torino.